abbiamo già accennato brevemente all'importanza delle parole di potere possiamo ora riassumere certi postulati che ne derivano e poi accennare alla cerimonia iniziatica e alle parole che vengono comunicate i postulati qui esposti sono nuove e se vi si rifletterà in modo adeguato riveleranno molte cose circa il procedimento creativo e il potere della parola 1 tutte le parole di potere derivano dalla grande parola trasmessa a logos solare all'inizio della manifestazione 2 tutte le parole di potere sono permutazioni o sviluppi dei tre suoni fondamentali e divengano più lunghe via via che scendono di livello fino a giungere alle frasi e ai discorsi dell'uomo nelle loro innumerevoli differenziazioni 3 perciò sul sentiero di ritorno le espressioni divengono sempre più concise coincise le parole sono usate con sempre maggior parsimonia fino al momento in cui l'adepto usa formule verbali solo quando lo richieda l'attuazione di fini specifici quali precisi procedimenti creativi specifica direzione di energia ciò naturalmente sui piani dei tre mondi perciò l'aspirante che si prepara all'iniziazione deve in primo luogo dominare ogni attività della triplice natura inferiore ciò implica l'applicazione di energia intelligente ad ogni atomo dei tre involucri fisico astrale mentale è letteralmente il risplendere dell'aspetto brama o terzo aspetto del dio interiore vigilare le proprie parole ogni istante di ogni giorno questa è un'affermazione molto semplice ma metterlo in pratica è davvero difficile chi vi riesce si avvicina rapidamente alla liberazione non si allude qui alla reticenza la scontrosità né al silenzio che spesso contrassegnano nature poco evolute e che in realtà sono soltanto indici di incapacità di esprimersi ma si riferisce all'uso controllato delle parole per attuare certi fini e al trattenere l'energia della parola quando questa non è necessaria ciò è ben diverso ed implica la comprensione dei cicli dei momenti opportuni presuppone la conoscenza del potere del suono e degli effetti prodotti dalla parola implica la conoscenza delle forze costruttive della natura e il loro uso corretto e si basa sulla capacità di dirigere la sostanza mentale e metterla in moto per ottenere risultati nella sostanza fisica in accordo con il proposito chiaramente definito del dio interiore è il risplendere del secondo aspetto del sé l'aspetto visno o costruttore di forme che è la principale caratteristica dell'ego sul proprio piano sarà inutile riflettere su ciò meditare e giungere così ad apprendere il proposito dell'ego con tale meditazione il primo aspetto si afferma sempre maggiormente e la volontà cosciente del dio interiore può essere percepita sul piano fisico queste tre attività dell'aspirante devono procedere parallelamente si osserverà che la seconda è il prodotto della prima e si manifesterà come energia sul piano fisico solo quando si sarà compiuto un vero progresso lungo queste tre direttive viene confidata la prima delle grandi parole ogni parola 5 stiamo contiene le proprie differenziazioni espansioni e permutazioni e pronunciandola l'iniziato suscita le parole minori con la vibrazione della maggiore da ciò la grave responsabilità e l'ampiezza dei risultati ogni parola viene comunicata all'iniziato in modo orale e visivo da prima viene confidata sotto forma di sette sillabe che gli deve ricordare come sette parole separate poi gli viene indicato il modo di unirle in un triplice suono in modo da produrre risultati più sintetici e vasti infine i tre suoni sono fusi in una parola che gli viene comunicata le sette parole che formano la grande parola vengono comunicate all'iniziato da iniziati dello stesso grado questi si dividono in sette gruppi secondo il raggio sotto raggio ed ognuno di essi canta una parola in rapida successione simultaneamente i colori e i simboli dei vari suoni appaiono all'iniziato che ode e vede ciò che gli è trasmesso il gruppo di iniziati più avanzati che circondano il trono i tre capi dei dipartimenti alle prime due iniziazioni e pratica buddha le tre alle altre cinque anzi otto anzi il gruppo di iniziati abbiamo detto i tre capi alle prime due giusto e i cinque infatti intonano allora la triplice parola che fonde le sette e di nuovo egli la vede con l'occhio interiore infine la intona l'iniziatore e l'iniziato prende coscienza interiormente per diretta esperienza dell'unico grande suono e ne riconosce la vibrazione in un centro particolare come sappiamo ogni centro è connesso con un piano uno schema un raggio e con altre divisioni settenarie e perciò il significato della reazione interiore sarà evidente maestri iniziati cooperano all'evoluzione dei tre mondi usano principalmente le sette sillabe della parola del loro grado le tre parole che fondono le sette sono raramente usate se non con la diretta approvazione di uno dei capi di dipartimento secondo la sillaba che contiene ogni parola è direttamente connessa con il triplice aum e perciò abbiamo detto con gli aspetti brahma visno e shiva dei quali essi sono i rappresentanti planetari quando un iniziato desidera usare a fini evolutivi l'intera parola occorre il consenso di tutta la loggia poiché tale parola influenza tutto un piano di uno schema planetario e di conseguenza la sostanza dei piani complementari per esempio un iniziato di terzo grado facendo risuonare la parola del suo ordine influenza la sostanza dei sottopiani mentali inferiori e di conseguenza quella astrale fisica un iniziato di secondo grado influenza il piano astrale e quindi il fisico si ottengono così risultati di ampia portata con effetti sull'attività di molti esseri 7 ogni parola differenziata o sintetizzata produce effetti nei regni devici e perciò sulla costruzione di forme della manifestazione non vi è suono che non susciti risposta corrispondente nella sostanza devica costringendo miriadi di piccole vite ad assumere forme specifiche tali forme perdurano e compiono le proprie funzioni fino a quando persiste il suono che ne è la causa e la specifica energia di volontà di colui che ha emesso il suono e che è diretta verso la forma vivente ciò vale per un logos solare che denuncia la um creando il sistema solare per un logos planetario che fa risuonare la sua parola planetaria e crea uno schema per un adepto che produce effetti per aiutare l'umanità sul piano fisico e per un uomo che con molte parole diverse esprime un proposito interiore o uno stato mentale producendo anzi costruendo una forma o veicolo di sostanza dedica la maggior parte degli uomini costruisce inconsciamente e le forme create sono benefiche ma anche malefiche secondo il movente o il proposito e ne attueranno la volontà fino a quando esso perdura 8 ogni parola espressa si distingue per un colore specifico per un tono particolare per una forma speciale per un grado di energia o attività per la vita che l'anima che può essere autocosciente cosciente o inconscia dio uomo o deva lo stesso vale per un sistema solare per un pianeta per un uomo per una forma pensiero animata da una vita elementale e per l'atomo fisico chimico la conoscenza e la realizzazione cosciente di queste verità distinguono il vero occultista il logos solare emise una parola e nacque la forma del sistema solare il suo colore è l'azzurro la sua nota un suono cosmico particolare il suo grado di attività corrisponde ad una specifica formula matematica che la mente umana attualmente non può concepire la natura della grande vita che l'anima quella del triplice logos è amore intelligente ed attivo 9 la grande parola del sistema solare si accorda con altre ed è solo una delle settemplice parola nota la grande esistenza che sta al logos solare come questi sta al logos planetario le parole sacre dei sette sistemi solari uno dei quali è il nostro costituiscono il suono settenario che attualmente vibra nelle sfere cosmiche in queste nove affermazioni sommariamente esposte le principali sono le principali verità dei procedimenti creativi del sistema solare essi racchiudono il segreto della vera magia e l'uomo spiritualmente intuitivo che le comprenda giungerà alla purezza di vita e di movente sarà altruista nell'intenzione disciplinato e coraggioso avrà il potere di attuare i propositi dell'ego cosciente collaboratore dell'evoluzione e parteciperà ai piani del logo sepranitario nel nostro schema sono formulati in modo conciso per proteggere la verità che contengono e tuttavia svelarla a chi è già pronto le sette parole del sistema solare che formano la parola logoica e che noi conosciamo solo nella sua triplice forma quale a um vengono rivelate alle sette iniziazioni alla prima è comunicata la parola per il piano fisico alla seconda la parola per il piano astrale alla terza la parola per il piano mentale inferiore a questa iniziazione il cui erofante il signore del mondo non viene comunicata soltanto la parola per il piano mentale inferiore ma anche quella che sintetizza le tre parole per i tre mondi essa viene affidata all'iniziato come tema di meditazione fino alla quarta iniziazione ancora vedremo ma gli è vietato usarla fino alla liberazione finale poiché conferisce il pieno dominio sui tre piani inferiori alla quarta iniziazione è comunicata la parola per il piano mentale superiore alla quinta per il piano buddico alla sesta per il piano atmico e alla te e alla settima per il piano monadico della monade alla sesta iniziazione alla sesta iniziazione la parola che sintetizza la quarta la quinta e la sesta e in tal modo mediante il potere del suono l'iniziato domina completamente la sostanza dei cinque piani dell'evoluzione umana alla settima al buddha illuminato è rivelato il triplice aum nella sua essenza ed è lì allora può dirigere l'energia nei sei mondi o piani esistono come sappiamo altre due iniziazioni ma nel nostro schema terrestre se ne dice poco poiché esso non è sacro e pochi o nessuno sono gli uomini che giungono all'ottava e nona iniziazione per farlo prima devono passare lungo un periodo di servizio e di istruzioni in un altro schema a riguardo si può soltanto accennare al fatto che all'ottava iniziazione si manifesta la dualità del triplice aum e alla nona è rivelato l'unico suono dell'assoluto il cui significato è udito e visto ciò porta nella coscienza dell'iniziato un poco di energia e di potere di colui del quale nulla si può dire ossia il logos del nostro logos solare tali sono il grandioso programma e l'opportunità che si presentano sempre ai figli degli uomini e ad ogni atomo di ogni luogo